Ciao ragazze, eccomi qua in un altro nuovo video che criccio dunque, allora, ho appena pranzato e tutto quanto e finalmente sono qui a parlare un po' con voi e soprattutto a stare insieme a voi appunto come vi va? Spero bene avete pranzato, mangiato, tutto quanto se volete, questo sarà un video lungo farò anche una sorta di, non lo so vediamo adesso cosa si può fare se farò ASMR o cosa perché sta voce sta notando sta sempre più scemando sta voce ma vabbè, dettagli e vabbè, un po' sono migliorata, diciamo la verità un po' già sono migliorata quindi diciamo che non sono più come prima che all'inizio come avete visto con la voce che non potete parlare per niente però adesso diciamo che sto migliorando, dai a parte la tosse che ogni tanto non molla speriamo che non parte adesso un colpo di tosse incrociamo le dita perché voglio evitare veramente è brutto tossire in video non è mai una bella cosa ma vabbè, dettagli e nel frattempo già vi dico che sono contenta che sto ritorno a fare video non dico come prima, ma quasi non so se riuscirò a fare videoblog ma ci provo perché finalmente questi qua non sono videoblog ma sono più o meno qualcosa dove mi vedete in casa non sto uscendo cioè esco ma non esco con la telecamera in mano la esco solamente col telefono in non so come si ah sta aggiustando sta, non aggiustando sta se sentite rumori è perché sta pulendo la stufa mia nonna e quindi sentite un frustrano dopo l'altro pazienza ragazze allora la porta non so se se la vedete ma è chiusa non so cosa si possa vedere sì è chiusa la porta però ahimè vedete il sentite il frastuolo non ci posso fare niente ragazze la porta è chiusa tutta sigillata non l'ho chiusa a chiave perché non ha senso però se sentite il rumore è quello vi stavo dicendo che ah sì che non è il videoblog come quando esco fuori perché non porto sempre il telefono cioè lo porto il telefono con me ma per chattare fare cose fare foto quando faccio video mi cerco non è che proprio sì l'ho improvviso il videoblog però sono videoblog per farmi sia compagnia a voi ma io compagnia a me stessa con voi diciamo più che altro e per i video vanno pensate a tavolino ma dopo dire la verità io preferisco fare essere più semplice possibile e spontanea e fare video come per a me io non so tutte queste notifiche ok youtube facebook e niente e vabbè anche instagram comunque a proposito se non siete ancora iscritti o seguirmi su instagram fatelo pure che vi aspetto vi metto tutti i link vi metto tutti i link nell'info box e i link il nome dell'account del mio account youtube a instagram e poi anche di tiktok e facebook e vi metterò che se vi guardate iscrivervi al mio canale youtube vabbè ci sta perché così almeno eh così almeno niente ragazze chi vuole mi seguo chi no pace ama non muore nessuno però ci teniamo a dirlo che se vi va potete iscrivervi al mio canale youtube niente allora ragazze eh cosa volevo dirvi eh cosa avete fatto di bello durante queste tutte queste tutte scusate mi stavo un po' affinando tutte queste feste di da vabbè natale capodanno ve l'ho chiesto ma non ho avuto ancora nessun feedback da parte vostra su come dire quanto riguarda quello che vi ho chiesto l'altra volta non so magari voi l'avete sentito ma non mi avete dato retta non lo so ve lo richiedo come avete festeggiato voi sia il natale che il capodanno per accogliere il nuovo anno fatemi sapere mi raccomando ci tengo qua sotto nei commentini nella sezione commenti e per quanto riguarda il 2003 come come lo avete accolto di fatto mi può sapere cosa ve ne pare di questo nuovo anno se se l'inizio del nuovo anno è flop o top fatemi sapere voi perché almeno il nuovo anno non mi è piaciuto non mi sta piacendo per niente l'inizio del nuovo anno per adesso mi stanno tutto più o meno così e così insomma cosa vuol dire così e così che ci sono un po' di scordi e per quanto riguarda il mio raffreddore lasciamo perdere guardate a parte l'influenza il resto tutto ok ma il raffreddore poi i manumori che ho per il raffreddore non è il massimo meno male che ci siete voi che mi che mi supportate mi sopportate più o meno siamo lì sì e niente cosa volevo dirvi il prossimo video sarà un video su i preferiti di questo dell'anno scorso voglio dire ma anche di quest'anno ce n'è un po' di tutto c'è un po' di tutto c'è tanti video in in come si può dire in sospetto in non in sospetto in dispensa in dispensa youtubiana nella mia rubrica però non li ho tenete iscritti perché alcuni li voglio scrivere così non scrivere come se sto dicendo li voglio organizzare così a Charlie voglio essere libera di di registrare così senza scrivere niente speriamo che non mi dimentica nulla altrimenti mi tocca scrivermi tutto già intanto ovviamente i video dei top flop di questo mese anche se non ve li faccio vedere però ve li dico almeno per l'occasione vi farò qualche foto a destra o a manca e se mi ricordo ve li mostro nelle screenshot ovvero nelle immagini salve vediamo cosa ne esce fuori già e niente poi cos'altro dirvi ah stamattina sono stata al medico non so ancora cosa riuscirò a pubblicare se riuscirò ancora a pubblicare quel video che stamattina mi avete non so se riuscirò appunto a pubblicarlo perché ho registrato un video dove vi facevo non dico la colazione ma più che altro vi annunciavo vi aggiornavo dalle mie salute come sto facendo tuttora perché quel video è brutalmente pesante da caricare non so cosa sta succedendo se è dalla mia rete di connessione o che cosa se è file troppo grande ma a me non importa niente continuerò a pubblicare a caricarlo finché non si stufa di di bloccarsi quindi speriamo bene perché io non lo so aspettate un attimo perché ok eravate storte allora vi dicevo dal dal mio smart dall'altro smartphone Samsung si sta caricando ma sta facendo mi sta facendo una testa così perché non si vuole caricare se è carico dell'altro telefono che sto registrando con con l'iPhone fai un fattibaleno che sa per quale motivo boh non si sa non si sa per quale caspita di motivello boh motivello come parlo vabbè ci siamo capiti e niente quindi aaa aiuto già è nulla quindi boh non lo so ragazzi è tutto così complicata la vita bene o male che c'è youtube per aiutarci a stare un po' meglio i social network è vero i social hanno un pro e un contro però vabbè dettagli niente eeeh che dire io adesso sono con questa benedetta ring light che non so quanto potete vedermi bene ora aumenta ancora di più la luminosità e niente sperando che voi mi interessate a vedere eeeh e sentire bene nonostante mia non aveva la 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 cosa della come si può dire la non viene a mente insomma quella cosa lì che serve di aprire la stufa pellet cioè la eeeh adesso non viene a mente se mi riesce lo scrivo qua sotto e se no ve lo dico man mano che parlo come si chiamava la non ce l'ho non viene a mente mannaggia a me come diavolo si chiama boh vabbè eeeh si chiama eeeh niente non ce l'ho a mente comunque ci siamo capiti e una cosa mi puoi dire la 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 si pira a polvere della stufa pellet ecco non c'è non c'è non riusciva a a a a usare il termine specifico boh oppure smetto eeeh smetto nel senso che stoppo di fare i video non sono costante ecco che non riesco più a essere più tanto mmm costante non è solo di fare i video ma anche di parlare sciolta liberamente cioè di essere sciolta non dico che in questo caso sia tanto sciolta ma non sono neanche tanta vabbè chiudiamo questo discorso per meglio cioè e niente quindi che dire eeeh perdonatemi ancora per la qualità del video ma questa è questa mi tengo perché se no youtube non mi fa caricare il video non lo so cosa sta succedendo se lo metto dall'altra parte mi viene male perché non mi vedo se mi metto di qua mi viene più cosa non lo so non mi trovo vabbè niente ah ho sentito una novità poco simpattica che forse Apple per gli amanti di Apple come me ma anche altri forse Apple sta chiudendo non vorrei che fosse una notizia falsa però spero che non sia così perché non ci vorrebbe io adoro Apple mi è sempre piaciuta spero che non chiuda che sia una notizia veramente fake perché ce n'è talmente quelle notizie fake in giro che non se ne può più veramente ragazze già e quindi nulla ragazze io adesso e ragazzi perché so che ci sono anche ragazze o tre ragazzi e ragazzi all'ascolto e ci vedremo dopo questo video perché sto continuando con i video categoria dei video l'occhio che l'icimo più che altro quelli che interessano di più non solo a me ma anche a voi almeno spero sia così e se no vabbè li farò lo stesso ciao a presto un bacio ricordatevi nuovamente di mettere un bel pollicello in su un commento e iscriviti e attivate la campanella per noi per i prossimi video di aggiornamento seguitemi su Instagram e appunto su TikTok e Facebook ciao iscriviti al mio canale e attivate la campanella ciao